La famosissima voce e adoratissima voce di Chris Cornell, cantante degli Audioslave, o meglio, prevalentemente ricordato per essere stato il cantante degli Audioslave. Ne parliamo oggi qua su Vemcoaching, io sono Andrea Volpi, sono un cantante e un vocal coach, vi do il benvenuto o il bentornato. Lo facciamo ascoltando insieme la versione a cappella, quindi senza strumentale, di Like a Stone. Ho scelto questo brano perché non è fra quelli impossibili, è difficile ma non impossibile, quindi vi invito anche ad allenarvi su questo brano qua, perché è un gran pezzo e perché è uno dei più richiesti a lezione. È diciamo un evergreen, quindi anche uno di quei brani che si inseriscono volentieri in scaletta se proponete delle cover. Quindi partiamo, cuffie e ascoltiamo. Allora, già non siamo felici, o meglio, siamo felici, felicissimi di ascoltare questa voce meravigliosa, ma il mood non è felice, proprio Chris Cornell, ok? Lo si percepisce, secondo me prevalentemente a causa della limitata articolazione, c'è anche un po' di nasalizzazione, però prevalentemente distinguiamo, diciamo con difficoltà, le parole. Cioè sentite che... In a room full of emptiness Non è in a room full of emptiness Ok? Risentiamolo e entriamo nel mood triste. Bellissimo. Comunque potete notare anche dei vibrati brevi, che però vanno già a arricchire la performance. Cioè sentiamo un suono prevalentemente pulito. La voce è presente, nonostante ci sia una dinamica controllata, ecco, non forte, ma è un timbro che è subito in primo piano. Allora, già qua è tutto molto legato, tant'è che si va a omettere anche una consonante di how, andiamo a controllare. Infatti dice reading how, invece l'h non la sentiamo. Riascoltiamolo insieme. Bellissimo questo fry in chiusura, chiusura col fry che dà questo senso proprio di rantolivo e di sofferenza. Cioè il vibrato e poi chiusura con quel rumorino di vocal fry, con questa voce rotta. Ok, qua già saliamo di dinamica, arriviamo sul ritornello. Sentiamo che la voce è molto più presente, infatti qua nello strumentale parte il chitarrone distorto e la voce di conseguenza alza i toni. Siamo sul fa. Quindi Facciamo caso al fatto che non è una i, non dice in your house, ma la pronuncia è un po' più verso una e, per più di un motivo. Risentiamolo. Ok, e andiamo a toccare anche un sol sul to, to be. To be. E comunque rimane il vibrato. Andiamo avanti. Allora, sentita questa P come esplosa sul microfono, P, vediamo se vi faccio fare l'effetto al microfono, P, sì, si dovrebbe essere sentito anche tanto. Quindi le dinamiche sono un pochino più alte e magari è anche una scelta artistica, quello di far sentire P, la P che esplode sul microfono. Comunque, sentiamo che c'è un filino di distorto su questo P, su questa E. Giusto? Forse anche su For. Anche su Like. Una cosa del genere. Attacco netto. È vibrato. Meravigliosa questa chiusura perché, allora, l'attacco è netto, l'attacco dell'ultima frase, quindi abbiamo I'll wait for you there alone. Col vibrato finale. Quindi, attacco netto e poi tutto legato fino a che non arriva sul finale e vibra sfumando. A cosa servono queste cose? Servono per dare groove al cantato e per variare lo stile. Cioè, un attacco netto, quindi sintomo di forza, simbolo di forza, di aggressività e poi tutto legato, quindi ammorbidisce il tutto per poi vibrare in fade out sul finale. Che io puoi dire? Chris Cornell. Allora, qua facciamo attenzione perché tanti questa cosa non la fanno, almeno quando la proviamo insieme. Sentite che sul finale c'è un andamento melismatico, quindi su bed fa queste note qua. Sol, fa, re, beeeet. Ok? Lo fa un pochino più velocemente, però provatelo lento e poi cercate di aggiungerlo, insomma, di attaccarlo alla parola, tutta la frase. Vibrattino sulla I. Bello anche questo che non è heaven, ma heaven, time. Ok, questo was va sul fa. Questo di solito tendiamo a farlo forte. In realtà va pensato molto piccolo, cioè non è che c'è una variazione di dinamica importante nonostante l'intervallo. Pensiamolo piccolo, se no farlo forte ci porta ad avere un atteggiamento ipercinetico, quindi a alzare tanto la dinamica, quando qua siamo sempre nella strofa. Stesso il ritornello, solo che è arrivato il corretto. Fa così. È una quinta sotto. Andiamo avanti. L'armonizzazione è completamente asincrono. È asincrono e ha un andamento dipendente dalla linea principale, nel senso che mantiene più o meno il solito intervallo e sale e scende quando lo fa anche la principale. qui abbiamo un attacco un po' glissatino è una specie di fade in con glissato riammorbidisce tutto qua siamo sullo special Comunque c'è ancora questa cosa della poca articolazione. Ha articolato un po' di più sul ritornello, si sono alzate le dinamiche e l'intellegibilità all'articolazione era maggiore. Però non era esagerata e qua torniamo ad avere un atteggiamento un pochino meno attivo diciamo con la mandibola un po' rilassata e zero sorriso. Ogni volta che si ferma su una vocale c'è il vibrato è molto morbido lento bellissimo ora si arriva qua arriviamo sul finalone lo lancia con un wander on su arriva sul sol distorto e arriviamo alla parte più difficile se vogliamo del pezzo perché sale di una terza mi pare che arrivi sul si bemolle ricontrolliamo qua se vogliamo essere pignoli il coro non era completamente a sync bellissimo e poi legato lo risentiamo si è un si bemolle fa tipo un po' distortino forse anche un po' rotto riscoltiamolo comunque e poi andiamo fluidi in avanti così sentiamo i legati lui lo ha fatto un po' più il finale una cosa del genere non è facile mettere la i lì in cattiveria vibratone vibratone sul finale una specie di mugolì o una schfa allora questo qua portarlo in fondo questo finale non è assolutamente semplice conviene secondo me farlo a pezzi cioè fare le parti quelle più acute da sole e poi rilegare tutto insieme perché perché queste parti qua quelle alte viene da farle molto molto forte di solito a tutti cosa che sì le dinamiche non è che sono bassissime no però col fatto che c'è il distorto ogni volta viene ad alzare il volume perché il nostro corpo la nostra mente reagisce a queste dinamiche a i suoni distorti solitamente approcciandoli con un forte sforzo fisico e ripeto non è che qua il volume è basso però se ci abituiamo a farlo e ci alleniamo a farlo a volume controllato sicuramente ce la portiamo a casa con più facilità e non rischiamo di essere sguaiati perché questo è il primo problema di quando cantiamo gli audioslave o quando cantiamo i pezzi di Chris Cornell rischiamo di essere sguaiati poi magari ne parliamo più nel dettaglio con un altro video su altri brani magari più atletici perché è una cosa molto interessante se ci avete fatto caso non è che sempre Chris Cornell lo sentite soprattutto nei live precisissimo perché comunque questi sono suoni sono posizioni da un punto di vista fondo resonanziale quindi laringeo e vocal tract non sempre comodissime e non sempre stabilissime bisogna essere bravi e bisogna studiare tanto quindi buon divertimento se volete provarla vi saluto spero che sia stato interessante sono Andrea Volpi sono un vocal coach se volete sono disponibile per delle lezioni vi do l'appuntamento a un prossimo video vi saluto e buona cantata a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo a un prossimo video